Ciao a tutti, io sono Valeria, io sono Luisa, noi siamo Weedy ed oggi siamo in un nuovo video. Il video di oggi è un video leggermente diverso, al solito perché è un blog, in pratica noi siamo appena svegliati, è una seduta smetace e fa tipo un freddo boia, quindi siamo super pesanti e siamo per andare a fare un prank ad un nostro amico, perché stanno dormendo nell'altra stanza, quindi ora vi porteremo con noi questa fantastica esperienza. Allora noi abbiamo questi mini faretti che però fanno una luce enorme, abbiamo intenzione di svegliare i nostri amici accendendoglielo proprio in faccia, quindi l'idea è di andare. per me. Mo' ha dormito bene, ho dormito sulla poltrona ma non ho visto che cazzo. Allora, il mio cane, che è quello, è rimasto incastrato, tipo si è impiegato i peli nelle zampe, quindi si è qui sbloccato. Ho fatto la sbloccata. Come sei fanni? No Siamo in macchina e stiamo andando in un posto magico che adesso vedrete e qui dietro ci sono cani vari No, cioè, seriamente ci sta, il mio cane è qua dietro, non so se si vede, sta qua, guardate un attimo Cioè, questo coso nero è il mio cane Questo coso nero E niente, quindi adesso tra pochissimo vi faremo vedere dove stiamo andando Vi spoilerò solo This one e non è nessuno spoiler Oh, intanto io mi c'è cambiato, non so se l'avete notato, felpa di gas, stile Oh my god Quindi c'è un altro papà Siamo stati geniali, abbiamo iniziato il guinzaglio del mio cane E quindi me lo sta girando a casa e lo dobbiamo vedere ogni due secondi E se è in un posto molto particolare che vi vogliamo far vedere da tantissimo tempo Ma non so per quale motivo non l'abbiamo mai fatto E tipo questa cosa enorme abbandonata, cioè, l'amo troppo La soluzione ai nostri problemi, eccola qui, una fintura Abusilissima Ok, facciamo vedere il fatto che... ok Poi è assurdo perché c'è un cadavere ci sarebbe troppo tattico qui in mezzo E niente, probabilmente moriremo, quindi potete ammirare la situation L'uomo cade giù il muro L'azione Oh, che atletica questa ragazza Spero ne vada più da guardate Stavo per morire Oh! 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 Siamo letteralmente sul tetto del mondo e niente, è sicuramente una giornata fantastica ed è incredibile, non vediamo l'ora di farvi sapere tutto quello che c'è dietro a questa giornata e niente. Non avete idea quanto è bello questo posto, cioè veramente il nostro posto preferito in assoluto perché ci sentiamo veramente liberi, guardate è in altissimo, solo noi qua e non ci stanno persone tipo per chilometri, cioè è assurdo. Vi spiego la situazione, siamo scesi a mangiare, è iniziata a piovere e noi siamo all'aperto e Luisa sta accampato a qua. Io ho fame pure ragazzi. La ragione va a fare che fa? Ora 10 minuti e continua a piovere e Luisa ormai sembra la madonna. Cioè non smette di piovere, siamo stanchissime, è stata una giornata veramente divertentissima, unica, cioè veramente speciale. Non tantissimo perché le ultime clip non le abbiamo riprese perché non si vedeva nulla ma praticamente siamo dovuti tornare e scendere per quell'edificio assurdo, col buio. Io non vedevo nulla, lui era già in macchina e io invece ho dovuto fare tutto per la stalli. E' stato veramente il terrore in persona, però ce l'abbiamo fatta, siamo vivi circa, quindi ok. Lasciate un mi piace se il video è piaciuto. E inoltre se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi al canale in questo pallino e vedete questo video. Come sempre, diciamo sempre, ma ormai diciamo è la fine dei nostri video, quindi bye!